Ah, mi stavo preoccupando, non si è presentata alle ultime tre proiezioni Sono stata impegnata, che è successo? Non lo so, non ho capito bene la trama, credo che l'attore, non lo so No, no, intendo che è successo da voi Ah, succede che ormai non ammazzano una settimana E com'azzaro stavolta? Don Salvatore Ecco voi, suro? No, ormai facciamo le cose in famiglia, Balduccio Remora Chi? Il cugino dell'America del Sud, a quanto pare ora è lui che comanda Ma non cambia molto, perché le cose vanno male come prima E quindi qual è la novità? Lui ha inventato qualcosa di grosso, vuole radunare la commissione Vuole mettere tutte le famiglie contro suro Senta Che c'è? Io vorrei farle ricordare rispettosamente che l'ho sempre aiutata Io non ce la faccio più perché prima eravamo tipo fattorini e perciò andava tutto bene Ma adesso con tutto questo sangue io ho l'ansio, io non dormo la notte e non va bene E quindi? Che vuole? Non ho capito Io lo porto davanti alla commissione Poi posso considerarmi libero O come dite voi Sollevate dall'incarico Vediamo Ma Com'è che si chiama questo cugino dell'America del Sud? Sollevate